Ciao a tutti amici di Xiaomi Today.it dal vostro Emanuele Anche noi dello staff abbiamo voluto provare l'ebbrezza del nuovo operatore Iliad di cui adesso andremo ad eseguire un piccolo test davvero cattivo Ma perché dico cattivo? Perché c'è stato detto che appunto l'operatore al momento si appoggerà sui ripetitori Wind E3 che si sono fusi recentemente, o meglio un anno fa, proprio per aumentare la loro portata E perché quindi direte cattivo? Perché io che sono stato un cliente affezionato dell'operatore Wind Beh, da qualche tempo a questa parte, nelle mie zone, assolutissimamente non riesce più a prendere il segnale nemmeno in 3G Pertanto andrò quindi a effettuare uno speed test con l'operatore Iliad A proposito, sto registrando dalla camera frontale dello Xiaomi Redmi S2 Perfetto, andrò quindi ad eseguire questo speed test Innanzitutto andiamo a ripulire completamente tutta quanta la cachet, quindi tutta quanta la RAM del telefono E andiamo ad effettuare lo speed test Come potete vedere, attualmente lui già prende il segnale in 4G Vediamo se effettivamente come va la velocità Quindi, operatore Iliad sta ricercando il server Telecom Italia S.P.A. e facciamo partire il test Bene, vediamo il risultato 23,8 MB al secondo in download E 1,36 MB al secondo in upload Ebbene amici, oggi mi trovo in uno splendido paesino Chiamato Caglianetto, o meglio definito la casa di Gianduia E proveremo a effettuare un altro piccolo speed test Per quanto riguarda l'operatore Iliad Vediamo che qui addirittura riesce a prendere 4G in 5 tacche E effettuiamo appunto lo speed test Nel frattempo vi faccio vedere un pochino anche dei controluce In modo che proviamo anche appunto la camera posteriore di questo Redmi S2 Nel frattempo lui è in upload E abbiamo fatto addirittura 77,9 MB al secondo in download E 16,7 MB al secondo in upload Nel frattempo mi sposto E proveremo a effettuare anche altri piccoli test E sempre dalla camera frontale del Redmi S2 Volevo dirvi che questa giornata mi sto spostando Per andare a fare un po' di commissioni Perché domani 3 giugno è il compleanno del mio piccolo Gabriele E quindi sinceramente arrivo sempre all'ultimo Quindi prenota la torta Vai a effettuare un po' di compere Per quanto riguarda il confezionamento del regalo Ma soprattutto le candeline Non possono mancare le candeline su una torta Devo andarla a trovare! E nel frattempo approfitto anche per farvi vedere Un po' come si comporta la stabilizzazione Che è integrata in questo Redmi S2 Ed è di tipo digitale Abbiamo una doppia fotocamera da 12 megapixel Più 5 megapixel sul posteriore Mentre frontalmente abbiamo una 16 megapixel E entrambe sono dotate di tecnologia Ai, logicamente per le candeline del mio bambino Non andremo qui alla prealpina Ma andremo al megacolosso dei cinesi Xunfa Proviamo a fare anche uno zoom Anche se qua siamo effettivamente in controluce Quindi proviamo a effettuare uno zoom Da quest'altra parte Arriviamo ad un 8x come zoom Proviamo quindi il controluce Quindi cambio di focale E continuiamo la nostra passeggiata Perché devo recarmi lì A Xunfa Super bazar Grande casa Eccetera eccetera Per andare a comprare Le candeline al mio piccolino E qua c'è tantissima roba ragazzi Non saprei proprio cosa scegliere Queste però sono fighe Perché sono quelle che fanno Tipo i fuochi d'artificio Non lo so Vediamo Scegliamo 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 Boh E potevamo farci mancare Un altro piccolo speed test Considerando che ci troviamo A Castellalfero E quindi abbiamo sempre Il segnale 4G Tutto presente Lui si aggancia sempre A Telecom Italia Sul server di Torino E vediamo a quanto va Iliad anche qui Risultato 37,5 in download 27,3 in upload Questo a Castellalfero Ebbene amici Io direi di concludere qua I vari test Che stiamo facendo Su Iliad Perché innanzitutto Non stiamo sponsorizzando Appunto il nuovo operatore mobile Ma volevo farvi vedere La qualità video Che ci rende Il Redmi S2 Attualmente sto registrando Dalla camera frontale Da 16 megapixel Mi trovo in auto E quindi potete anche Valutare L'audio Proprio che ne esce Da questo video E soprattutto Mi aspetto Una serie di commenti Da parte vostra Che vi diciate Se vi è piaciuto il video E quindi vi consiglio A mettere un bel like E soprattutto Se questo Redmi S2 È all'altezza Delle aspettative In quanto ultimamente Xiaomi ha dimostrato Di migliorare Ulteriormente le performance Fotografiche Su tutti i propri dispositivi Per Emanuele Da XiaomiToday.it È tutto Ci vediamo Alla recensione completa Alla recensione completa Alla recensione completa Alla recensione completa